Ore di tensione ad Eboli questa mattina in via Dante Alighieri nel centro storico. Un uomo di origine ucraina si è barricato nella sua casa minacciando di togliersi la vita. A lanciare l'allarme è la madre dell'uomo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del locale di staccamento ed hanno predisposto il gonfiabile per evitare che l'uomo, gettandosi dal balcone, si ferisse o peggio perdesse la vita. Dopo qualche ora di attesa i caschi rossi sono riusciti ad entrare in casa. I vigili del fuoco erano accompagnati dai sanitari dell'igiene mentale che hanno sottoposto l'uomo al relativo trattamento sanitario obbligatorio ponendo fine ad ogni tentativo estremo. Trambusto nel centro della città eburina ma l'emergenza è già rientrata.